L'attività della Regione e del mondo della scuola è il programma più vasto che la Regione abbia mai rivolto al mondo della scuola e dell'università. Abbiamo investito decine di milioni di euro per i programmi di scuola viva coinvolgendo per anni oltre 500 istituti scolastici di tutta la Regione. Oggi variamo un ulteriore programma per altri 8 milioni di euro rivolto a scuole presenti nei territori più a rischio. E dunque, oltre a scuola viva, oltre al trasporto gratuito per gli studenti, siamo arrivati a 135 mila abbonamenti gratuiti. Oltre agli interventi di borse di studio per le famiglie non abbienti, oggi parte un altro programma, 8 milioni di euro, rivolto a interventi strutturali. Telecamere da mettere nelle scuole, laboratori da ristrutturare, palestre da ristrutturare, interventi culturali, laboratori in tutte queste scuole e anche interventi sulla formazione, cioè un tentativo di creare canali di collegamento fra attività scolastica e mondo del lavoro al di fuori delle scuole. Mi pare davvero un programma di straordinario valore, civile e sociale.